Ieri vi avevo riferito di John Cena che è andato in Olanda a incontrare un ragazzino, Mischa, che è scappato dall'Ucraina insieme a sua madre. Un ragazzino che ha afflitto da sindrome di Down che non parla e che era riuscito a stringere i denti durante il viaggio perché la madre gli aveva promesso che se ce l'avrebbero fatta John Cena sarebbe stato lì pronto ad incontrarli. Il desiderio di questo bimbo è diventato tangibile, è arrivato alle orecchie di John che ha deciso effettivamente di trasformare il sogno in realtà. Ed ecco qua il momento in cui John raggiunge questo tifoso e insieme fanno il gesto dello you can see me. Momenti indimenticabili, ora lo so quello che qualcuno sta pensando, è anche marketing. Ed è vero, viviamo in una società che su queste cose ci gioca spesso. Però questo zaino che abbiamo addosso io lo voglio buttare via perché John Cena poteva anche non andarci, potevano fregarsene, è un ragazzo malato, pazienza, peggio per lui. E invece il fatto che esista il wrestling, il fatto che esista comunque il voler mantenere per sé, per l'azienda che si rappresenta, una bella immagine, una bella reputazione, ti porta anche a fare cose del genere. E io l'ho incontrato più volte, so che John Cena questi incontri, queste cose le fa con un cuore leale, con un cuore vero. Non le fa pensando al suo tornaconto. È ben conscio della responsabilità che gli è capitata. Non può incontrare tutti, ma se può regalare un momento cruciale, bello, indimenticabile e cambiare la vita di qualcuno, se lo può fare, lo fa. E non è finita. Perché dicono a John Cena? Cioè, Misha ha anche una lottatrice preferita, che è Alexa Bliss. E gli piacerebbe, in qualche modo, entrare in contatto con lei. Solo che Alexa Bliss, a differenza di John, è una regular in WWE al momento, quindi non può assentarsi dall'America, chiaramente ha altri impegni, ha altre scadenze. Allora John dice, io la conosco Alexa Bliss. Facciamo così, mandiamole un saluto. Dai, mandiamoglielo assieme. Io e Misha, ti salutiamo Alexa? Stai tranquillo perché lo vedrà e sono certo che ti risponderà. Vedrai. E Alexa, come John Cena immaginava, ha visto e ha risposto. Ciao Misha, ti mando tanti abbracci e grazie a John Cena perché tutto questo mi ha scaldato il cuore. Una piccola storia nel suo insieme, che però è bello raccontare, quindi ci tenevo a tornarci su.